Questo incontro è dedicato a una mostra che si tiene a Palazzo Reale e che propone una inedita osservazione ed analisi dell'attività grafica di Umberto Boccioni. Molti disegni provenienti dalle raccolte del Castello Sforzesco consentono di entrare nella officina Boccioni per questo artista che ha sempre messo vicino la penna, il pennello, ha spesso sperimentato anche opere polimateriche. Morto troppo presto, nel 1916, ma è riuscito a respirare l'aria delle più importanti avanguardie europee e la sua sperimentazione lo affianca agli espressionisti, ai FAUV e naturalmente a quel movimento futurista per cui scrive il manifesto della pittura. Un grande personaggio, quindi. Sono felice oggi di essere qui, non solo perché sono con voi, ma anche perché vi presento una bella mostra, una mostra importante perché senza fare della filosofia spicciola probabilmente la necessità fa la virtù. Quindi hanno tirato fuori dai depositi, in particolare delle raccolte comunali, dei disegni, delle stampe, dei bozzetti che non erano stati presentati in mostra, precedenti. Questo è un po' un mio pallino, sia la Pinacoteca di Brera che l'Accademia di Brera, tanto più l'Ambrosiana, tanto più le raccolte comunali, tutti hanno un enorme patrimonio grafico. La Vox Populi dice che i disegni non piacciono al grande pubblico, è una stupidaggine, i disegni sono molto importanti, aiutano ad entrare nell'officina del dipinto, quindi è importante che vengano valorizzati, che non spariscano, che non finiscano dispersi come purtroppo in alcuni momenti difficili è accaduto. Quindi è una mostra interessante per questa presentazione di materiale inedito, ma c'è di più le curatrici, in particolare Francesca Rossi e Federica Rovatti che hanno scritto dei bei saggi in catalogo, sono delle giovani signore in gamba che danno una lettura anche nuova di Boccioni, un personaggio che è facile semplificare, cioè che è facile ridurre al grande elogiatore delle macchine. Poi si aggiunga che molte generazioni, la mia e forse qualcuna di quelle prima, hanno guardato con un po' di sospetto il futurismo che nel periodo fascista si era appoggiato al fascismo, aveva in qualche modo aiutato il colpo di mano musoliniano e quindi il futurismo è stato guardato sempre appunto con un po' di distacco, quando si è amato Picasso poi Boccioni e compagnia sono stati un po' messi nel dimenticatoio. Si capisce la fondamentale novità degli inizi del Novecento pensando che gli inizi del Novecento sono stati la grande officina della rielaborazione semantica della pittura, cioè cambia il rapporto tra l'artista, il pubblico e l'opera d'arte. Si comincia a studiare cosa vuol dire opera d'arte, che rapporto effettivo c'è tra l'opera d'arte e lo sguardo dello spettatore. È un argomento colossale, se qualcuno di voi è uno specialista mi perdoni perché io dirò delle cose molto piatte, ma forse qualcuno di voi non ci ha mai riflettuto ed è invece importantissimo pensare al ruolo che le opere d'arte hanno per il nostro sguardo e come si inseriscono nella nostra realtà. In particolare gli inizi del Novecento, e Boccioni ne è un protagonista, si domandano che rapporto c'è tra il fare arte e il tempo. Il tempo per noi banalmente è diventato il clima, ma il tempo è il gran signore, condizione sine qua non della nostra esistenza. Il grandissimo Faust lo aveva detto appunto, nel momento stesso in cui io voglio fermare l'attimo, l'attimo non c'è più, io dico adesso e l'adesso è già cambiato. Più o meno cerchiamo tutti di adattarci a questa condizione, ma non ci facciamo troppo caso, solo ogni tanto passiamo davanti a un orologio e diciamo accidenti, sono già le sei, oppure ci alziamo al mattino, ci guardiamo e diciamo ma questa ruga ieri non l'ho vista. Però il tempo va e va per tutto ciò che è dell'uomo e l'arte, essendo io credo il distillato più puro dell'essere uomo, a sua volta deve fare i conti con il tempo. Allora vi aspetta una piccola e assolutamente libera, un po' anarchica, rassegna di immagini che vi vogliono mostrare il rapporto tra l'arte e la dimensione temporale. Qualche momento di perplessità, che cos'è? Siamo, lo vedete nell'edificio della Biennale di Venezia, siamo nella Biennale del 2011 e questa strana candela colata che vedete qui è un'opera d'arte di un giovane artista svizzero che si chiama Urs Fischer. Fischer prende delle opere d'arte classiche, importanti, in genere delle statue del 1500, perché nel 1500 Giambologna, Ammannati hanno rappresentato con particolare tensione il movimento. Tutti questi gruppi con figure che si abbracciano, questa tensione di muscoli. ebbene, questo giovane artista parte da questi gruppi scultorei del 1550 e li traduce in cera. Poi porta quest'opera all'interno di un'esposizione, in questo caso la Biennale, e al momento della inaugurazione della Biennale accende una fiamma con uno stoppino nella parte superiore della statua. La statua naturalmente si scioglie e ogni momento nella durata della Biennale vede dell'opera d'arte diversa. E quindi l'opera d'arte, anziché essere sempre lì, come ce l'aspettiamo, ogni volta cambia. Vi ho detto, lancio proprio così dei semini, ma l'argomento è un argomento enorme, profondissimo, che credo nessun congresso riuscirebbe a sviscerare fino in fondo. Nella stessa Biennale, una delle opere che più hanno attratto il pubblico è stato un video, un video di 24 ore, realizzato da un artista che ha selezionato, pensate, tanti frammenti di film in cui appaiono degli orologi. Non so, il famoso Harold Lloyd appeso alla lancetta dell'orologio o i noir americani. Cos'era la cosa straordinaria? Che sempre l'ora che appariva sullo schermo era la stessa ora dello spettatore. Ora voi direte, ammazze che lavoro, chissà come ha fatto, quanti film ha visto. E questa è la reazione immediata. Però se passate ad un discorso più profondo e riflessivo, il tempo del film corrisponde al mio tempo. Una delle frasi di Umberto Eco, che sono apparse più frequentemente dopo la sua morte, dice io ho vissuto tante vite perché sono stato il gym dell'Isola del Tesoro, sono stato il Fabrizio del Dongo della Certosa di Parma, eccetera. E' vero, quando io soprattutto da ragazza o da ragazzo leggo un libro che, come si dice, mi prende, il mio tempo non è più quello che io sto vivendo, ma è il tempo che mi propone la lettura. Allora, sono come vi dicevo tutti spunti di riflessione che proseguo così, zizzagando, ripeto, assolutamente, senza alcuna pretesa di essere esauriente e sapendo che ciascuno di voi può aggiungerci la propria esperienza o un proprio pensiero. L'immagine che vedete qui l'avete giustamente riconosciuta tutti. Salvador Dalì prende il tempo, la sua grande ossessione, perché forse non lo vedete, spero di sì, qui sulla cassa dell'orologio ci sono formiche, qui ci sono mosche, da lì avrebbe potuto raccogliere, forse lo ha fatto, tutte le frasi che compaiono sulle meridiane, per esempio. Ora fugit, ultima nekat. Dalì era ossessionato dal tempo. E quindi tutte queste moschine, tutti questi insetti, sono delle vanitas. Rappresentando però il famoso golfo presso cui è cresciuto, Cadaqués, che lui tanto ama, è come se prendesse quel tempo crudele, quel tempo che è suo assassino e lo sciogliesse, lo portasse a combustione. E di qui i famosi orologi pizza, che istintivamente ci piacciono, ci sembrano buffi, ma forse vale la pena anche qui capire, studiare, perché ci piacciono, perché è come se il tempo venisse fregato. E adesso torniamo ad una visione più semplice, almeno apparentemente. L'opera d'arte, in una buona parte della sua storia, e qui siamo a Ravenna, in San Vitale, e siamo di fronte al ritratto dell'imperatrice Teodora, quindi siamo nel VI secolo, l'opera d'arte è l'eternità. E noi, umani, destinati ad ammalarci, a morire, a imputridire, guardiamo l'opera d'arte che è eterna. Almeno così vorremmo, così la postuliamo. È chiaro che per essere eterna non deve rappresentare il movimento. Il movimento è proprio ciò che passa, è il nostro modo di essere nel tempo. Allora, l'imperatrice Teodora se ne sta lì, immersa in questo mare d'oro, e l'oro, di nuovo, è il simbolo più antico per il mondo occidentale di eternità. Argento e altri materiali si offuscano, si opacizzano, l'oro col suo misterioso lucore sembra sfidare i secoli. E così abbiamo banalizzato, facendolo un bene rifugio, l'antico bisogno di eternità dei nostri antenati e superantenati. Difficile rappresentare il tempo, che c'è, c'è sempre, da quando nasciamo a quando moriamo e chissà forse anche dopo, perché questo è evidentemente il grande enigma. E allora come rappresentarlo, visto che c'è, ma non lo vediamo? Allora, la maniera forse più naive, più carina, secondo me, è quella che vedete in questa tavoletta del primo 400 toscano. Il padre tempo, che genera e uccide, che dà la vita e la toglie, è un vecchio, dalla gran barba prolissa, un po' curvo, con le ali, guarda tutto il mondo, perché il tempo appartiene a tutto ciò che è mondo, sta su un carro trainato da dei cervi che sono veloci, appunto come il tempo. Nella sequenza dei trionfi petrarcheschi, il tempo ha un unico nemico che riesce a vincerlo, cioè la fama, la gloria. Un altro esempio, un pittore francese del 1600, si chiama Nicolas Poussin, rappresenta il tempo in una maniera, diciamo che è stata fortunata per qualche secolo, la danza delle ore. Collegandosi ai carillon, ai movimenti degli orologi sui camini, l'idea delle ore che danzano è un'idea piacevole. Poussin rappresenta quindi queste fanciulle poderose che danzano, là in alto c'è Apollo con il disco del tempo, sotto, sotto a dettare il ritmo delle ore che vanno, c'è ancora una volta il vecchio tempo, con le ali, le ali da uccello rapace, perché il tempo naturalmente porta via. E sotto, vedete a destra, proprio sotto il tempo, un putto che rovescia la clessidra e dall'altra parte c'è invece un'erma bifronte, qui, un'erma bifronte con da una parte la giovinezza e dall'altra la vecchiaia. E sotto un putto che soffia in una cannula per ottenere delle bolle di sapone, bolle di sapone che sono evidentemente il simbolo della vanità e della brevità. Questo tema della danza delle ore ci porta più vicino al nostro argomento odierno, perché questa è la danza delle ore rappresentata da Gaetano Previati. Di Previati probabilmente avete visto e ricordate parecchie opere esposte alla mostra del simbolismo. Capirete, spero di riuscire a farcela oggi, che siamo abituati a pensare a Boccioni solo come a un ribelle che rompe con il passato, in realtà vedremo che Boccioni aveva una grande stima di Previati. Lo conosce nella Milano del 1907, viene da lui accolto e nel suo diario Boccioni parlerà positivamente di un Previati che non ha certo il carattere esplosivo di Boccioni, che è un uomo quieto ma un grande tecnico che ha scritto un manuale sull'arte di dipingere. Eccola la danza delle ore, fanciulle botticelliane che girano in eterno il cerchio dei pianeti e qui c'è una cosa importante che spero di riuscire appunto a comunicarvi. Il tempo è energia, perché il tempo produce il movimento e il movimento è nel tempo. Per ottenere il movimento ci vuole energia. La luce è l'unico modo che il pittore ha per rappresentare l'energia. E allora Previati fa tutti questi studi di luce con questa filettatura divisionista, come vedete, una luce che non è più solo la luce metafisica nel senso religioso dei secoli passati, ma è una luce di energia, di slancio vitale, che ritroveremo in Boccioni. E adesso chiudo appunto questa piccola ouverture dedicata al tempo che mi sembra essenziale, perché dovete ricordare che gli anni di Boccioni sono gli anni di Einstein, sono gli anni di Luigi Pirandello, sono gli anni in cui ritorna in maniera moderna il tema del confronto tra la pittura e la poesia. Che differenza c'è tra un quadro e un romanzo? Io lo dico sempre alle classi che vengono alla biblioteca braidense, che si fermano nell'atrio e dicono che belli, quanti libri. E poi qualcuno osa e dice ma qualcuno li ha letti tutti. Ecco la differenza tra il quadro e il libro. Il quadro io lo percepisco, dico l'ho visto e me ne vado. Il libro richiede tempo, esattamente come la musica. Però il libro racconta anche il tempo. Nel romanzo io parto da una situazione iniziale e arrivo ad una conclusione finale. Nel quadro no. La Madonna di Piero della Francesca non può alzarsi dalla sedia. E le figure di Raffaello resteranno sempre lì. Se qualcuno di loro si voltasse e sorridesse, io non potrei vederlo. Tenendo conto di questa, vi dicevo, piccola ouverture, veniamo a una galleria di personaggi che, secondo il costume odierno, vi faranno dire subito, ma che brutti, cos'è? Cosa ci fa vedere? In realtà è una piccola licenza che mi prendo per dare volto ad alcuni nomi che magari ci ronzano nelle orecchie, ma che non sappiamo collegare a delle figure. e sono quei filosofi di fine Ottocento, inizi Novecento, che causano il transito da quel simbolismo che occupa tutta la fine dell'Ottocento, ma arriva anche abbondantemente fino alla Prima Guerra Mondiale, e le avanguardie. Per esempio, questo signore, che si chiama Ernest Renan, è un viaggiatore, archeologo, filosofo e soprattutto scrive di religione. Scrive una scandalosa vita di Gesù, in cui, seguendo la nuova filosofia positivista, dice Gesù straordinario personaggio, ma un uomo, un uomo come tanti, come ne hanno avuti tante le altre religioni. Uso lui, questo simpatico ciccione che stava, appunto, che veniva dalla Bretagna e che è stato, peraltro, un grande professore di storia delle religioni, per farvi capire che l'epoca di Boccioni ha, tra l'altro, questi spunti di filosofia positivista. Quindi, si scoprono i raggi X, per esempio, si comincia la fisica molecolare e tutta la tradizione romantica, l'anima, lo spirito, eccetera, riceve un enorme colpo. positivismo, quindi, e rabbia nei confronti di una tradizione che viene vissuta come una tradizione superstiziosa e di menzogne. Lui lo conoscete e lo conoscete non solo grazie alla fotografia, ma perché il pittore Edvard Munch trasse dalla fotografia di Friedrich Nietzsche numerosi ritratti. Penserete che io ne sia ossessionata perché lo cito in continuazione, ma non è colpa mia. Nietzsche è stato veramente un personaggio che ha combattuto con Dio, non so come dirvi. È uno che è riuscito ad avere il coraggio di sforare con tutte le tradizioni, con l'artrosi delle credenze che lo avevano preceduto e ha fatto tremare l'Europa intera. Quindi Renaud, Nietzsche, Nietzsche che tra l'altro scrive alcuni aforismi importantissimi sulla volontà di potenza. Quindi sull'uomo che è stato fatto schiavo dalle credenze, ma anche dalla situazione servile a cui è sottoposto dalla politica e che può, se ritroverà le proprie energie, redimersi e avvicinarsi alla potenza della creazione. Superuomo, quindi, e subito dopo, un personaggio che sembra invece così tranquillo, un buon direttore di banca, direi. In realtà si chiama Georges Sorel, ha scritto delle riflessioni sulla violenza, è stato uno dei teorici dell'anarchia. Anche qui so di toccare un tasto non facile e quindi perdonatemi certe imprecisioni, ma abbiamo un po' messo da parte, se volete, la forte componente anarchica che è stata nelle ideologie e nella politica di inizi novecento. Sorel con le sue riflessioni sulla violenza si oppone al socialismo utopico di Proudhon e avvicinandosi a Nietzsche propone appunto la liberazione delle forze della violenza, dell'aggressività. Boccioni, e qui in questo vi sembrerà antipatico, ma non lo era, dirà che non esiste opera d'arte senza aggressività. Infine, sembianze mistiche, monastiche, un grandissimo filosofo, anche lui dimenticato, perché la filosofia, ahimè, è una delle, secondo me, una delle cose più straordinarie che l'uomo abbia prodotto, ma la nostra tecnologia la sta progressivamente mettendo da parte e relegando a un'élite che probabilmente poi finirà col comandare il mondo. Lui si chiama Henri Bergson, scrive l'evoluzione creatrice, l'evoluzione creatrice, è, diciamo, il più celebre smantellatore dei dogmi kantiani e, appunto, è il primo ad affermare l'uomo ha due coordinate, lo spazio e il tempo, che sono in, diciamo, che entrano l'una nell'altra e la nostra vita è modellata da queste coordinate. È grazie all'evoluzione creatrice di Bergson che parte quella riflessione sul tempo di cui vi ho fatto cenno, che ritroveremo naturalmente in Boccioni e che arriva fino agli esperimenti della biennale che vi ho mostrato e oltre. Subito dopo Bergson, Proust comincia alla ricerca del tempo perduto e dice ciascuno di noi ha tanti tempi intorno a sé. Voi che guardate me siete qui e io sono qui, ma io vi faccio vedere una fotografia di un uomo vissuto agli inizi del Novecento. Voi magari guardando questa fotografia non lo dite, ma pensate a un signore che avete incontrato sulla metropolitana dieci giorni fa oppure a un vostro zio e il tempo si incrocia. Queste riflessioni così difficili come vi dicevo maturano nella testa di un signore che è il nostro protagonista e siccome io posso almeno per oggi giocare con il tempo è naturalmente un gioco assolutamente superficiale e vi dicevo di riflessione vi faccio vedere subito un memoriale dedicato a Boccioni che si trova in un luogo che tra l'altro mi pare gli eventi calcistici hanno reso famoso cioè Chievo è a Chievo vicino a Verona che Boccioni muore in un incidente di equitazione monta una cavalla che ha chiamato Vermiglia e vedremo poi il valore di questo colore ama molto i cavalli ma è un cavaliere inesperto la cavalla lo getta terra poi lo trascina per terra e quando lo trovano le contadine ormai è morente e appunto Boccioni muore in quest'alba dell'agosto del 1916 partiamo quindi idealmente dalla fine anche se adesso vi faccio vedere com'era lo so dopo Bergson Renan eccetera questo ha un effetto decisamente catartico diciamo una bella giovinezza e parlare di Boccioni vuol dire parlare effettivamente del genio giovane perché è nato nel 1882 e morto nel 1916 è una stella filante rapidissima se pensate poi che gli altri protagonisti delle avanguardie e penso soprattutto a Matisse e Picasso avranno una vita molto molto più lunga nato a Reggio Calabria nel 1882 ma da genitori romagnoli con un netto squilibrio in famiglia una mamma amatissima e un padre di cui parla malvolentieri una famiglia che gira per l'Italia senza pace e che si ferma a Roma dove Boccioni cresce cresce e studia fa le scuole diciamo regolari non ha alcuna propensione per il disegno pare che sia stato più volte rimandato appunto il disegno però è nella Roma nella Roma degli inizi del novecento quindi una Roma la Roma dannunziana sostanzialmente la Roma della cronaca bizantina del convito dove dipingono quel sartorio di cui avete visto le opere alla mostra del simbolismo Deboosis insomma questi personaggi un po' tromboni e lui invece prende tutti i libri di quei signori che vi ho mostrato poco fa e li legge camminando per strada e accumula una rabbia infinita è giovane pieno di sogni ha una voglia immensa di rovesciare tutto e per mostrare la sua la sua solitudine e il suo essere a parte si veste così voi direte beh elegantissimo ma il cappello è da doganiere francese e lui scrive nel suo diario quanto aveva speso più o meno come un ragazzo che si veste alla bancarella dei cinesi non fa carriera scolastica regolare quindi fa le scuole necessarie ma poi non prosegue e ha quindi quella quell'atteggiamento psicologico che hanno gli autodidatti un po' confuso sicuramente sa un po' di tutto fatica a mettere insieme un discorso complessivo però è attratto dalle scienze dalla filosofia dalla poesia un po' come quello che sarà il suo maestro a Roma cioè Giacomo Balla legge costantemente con grande pazienza consumando tutte le candele di casa i manuali öpli li compra a tutti quello di architettura quello di botanica e la notte quando i genitori lo invitano a spegnere la candela lui continua a leggere i manuali o i plin questo un po' il personaggio in questa Roma vi dicevo borghese perché appunto i Savoia avevano portato con loro una nuova classe finanziaria che era appunto la classe dei banchieri dei finanzieri eccetera e lui li conosce a Roma Giacomo Balla che era nato nel 1874 a Torino e che quindi essendo più vecchio di lui può fargli un po' da maestro non ci crederete ma il primo Boccioni è così quindi deve cercare di dipingere anche se non ha fatto le scuole come si dice e intuisce che il divisionismo quello usato da Segantini è la tecnica più adatta a esprimere quel gran fiume di luce di dubbi e di passioni che ha dentro di sé e così questo che vedete è un quadretto si chiama Campagna Romana e lui deve confrontarsi con le opere di Giacomo Balla che è vi dicevo il suo maestro Balla è stato un grandissimo personaggio conosce conosce il divisionismo quando scende da Torino a Roma e fa questa pittura fotografica era anche un ottimo fotografo e di Giacomo Balla datato proprio agli anni in cui Balla ha nel suo studio il giovane Boccioni è questo fallimento che vedete qui fallimento è il titolo così così drammatico vedete la porta del negozio chiusa con con la lettera messa appunto dalla dalla polizia e i ragazzi che fanno gli scarabocchi ormai impuniti sulla porta vedete che il tocco di Balla è estremamente minuto e benché per tutta la vita Boccioni abbia un grande rispetto per Balla pure dirà che Balla lo aveva incrodato in una pittura femminea e micrografica cioè che lo aveva invitato a fare una pittura minuta con troppi dettagli eppure Balla in anni pre-futuristi perché poi tutti e due Boccioni e Balla aderiranno al futurismo Balla in anni pre-futuristi aveva dipinto opere come questa che si intitola la giornata dell'operaio e che è una delle prime immagini di vita nella città che abbia prodotto la nostra pittura quando vi farò vedere la famosa città che sale di Boccioni ve lo ricorderete ma quest'opera è appunto del 1904 quando Balla è con Boccioni a Roma si intitola la giornata dell'operaio e vedete si alzano questo è il sottotitolo si alzano mangiano e vanno a dormire con il divisionismo cioè con questa pennellata fratta di cui vi dicevo Balla ottiene una straordinaria luminosità ed è in quel periodo socialista ma di quel socialismo che conoscete per Pellizza da Volpedo per lo stesso Segantini un socialismo che non ha ancora avuto come posso dire il banco di prova delle rivoluzioni è un socialismo turatiano ma soprattutto con tante componenti ancora di umanesimo tolstoiano eccetera comunque è in questo periodo che Boccioni scrive non sono forse ancora in vita e lui scriverà subito dopo il suo soggiorno a Roma e non camminano ancora indisturbati per le strade e non seguono ancora nelle commissioni e nelle giurie coloro che hanno massacrato Segantini e Fattori coloro che hanno spinto al suicidio Pelizza da Volpedo che hanno fatto fuggire all'estero Medardo Rosso che hanno innalzato una muraglia di silenzio intorno a Previati quindi io per non tirarla troppo lunga non vi proietto i dipinti di Sartorio che avete ancora alla mostra del simbolismo però pensate che Balla Boccioni vivono questa Roma da bohemia diciamo non ufficiale anche se non definitivamente rivoluzionaria e il confronto tra Boccioni e Balla si pone in quegli anni con la nonna cosiddetta in realtà non è la nonna di Boccioni però viene chiamata così un ampio cartone dove vedete appunto questa figura con già dietro la finestra e attenzione alle finestre in Boccioni perché sono importanti quasi come in Matisse e il confronto è con il ritratto della madre di Balla anche qui grandissimo pastello e di grandissima qualità sempre negli anni romani Boccioni dipinge la signora Virginia e vedete che cerca di utilizzare la luce appunto in modo da sottolineare l'appartenenza del soggetto all'ambiente il problema grosso oltre alla luce e al tempo è proprio quello di far capire che nessun oggetto è ritagliato dal fondo ma che il fondo e l'oggetto rappresentato si intersecano senza senza che io possa secondo le convinzioni della vecchia accademia tracciare il contorno dell'oggetto separandolo dal fondo qui lo vedete in un autoritratto giovanile e nel 1906 Boccioni va a Parigi sono anni caldissimi perché in realtà per parlarvi di lui dovrei dirvi anche che cosa sta succedendo in Francia come la belle Epoque proceda con i dipinti di Fortuni Boldini Soroya Zuloaga eccetera e come d'altra parte però per esempio il nostro Marcel Proust vada in macchina in automobile e si innamori anche del suo chauffeur cominciano le prime automobili non solo cominciano i primi voli aerei lo vedremo insomma è un mondo che ha un registro tranquillizzante per il per il mondo borghese che è quello che chiamiamo la belle Epoque il Liberty e dall'altra parte ci sono appunto sempre più ruggenti le avanguardie che stanno nascendo 1906 lui arriva a Parigi conosce un po' degli artisti dell'epoca vede sicuramente nelle gallerie d'arte con la gran fame di uno cresciuto in provincia perché una cosa va ricordata l'Italia era in quel momento un paese che girava a una velocità infinitamente inferiore alla Francia alla Germania all'Inghilterra tanta campagna appunto la campagna romana che avete visto poco fa tanti contadini ancora ma pochissime industrie con Boccioni a Roma a frequentare balla c'è Gino Severini Gino Severini veniva da Cortona meravigliosa Cortona ma pensate quando Severini arriva a Parigi e Severini che era un viveur dirà a Cortona ho visto solo donne vestite di nero e mi dovevo immaginare l'attacco della caviglia di una donna a Parigi ho visto la metropolitana le donne che ballano il cancan quindi pensate a che cos'erano les italien a Parigi e quello che noi oggi forse cerchiamo perché io lo sento molto tra la gente basta non ne posso più di Milano una bella cittadina di provincia un bel paese loro che ci vivevano naturalmente sognavano la metropoli e lo vedremo addirittura da Parigi Umberto va in Russia in un viaggio misterioso misterioso credo anche perché con tutto il disastro che c'è stato tra la guerra civile rivoluzione eccetera se Boccioni ha lasciato qualche traccia di questo breve viaggio attraverso la Russia questa traccia è andata dispersa però ospite di una famiglia russa che ha conosciuto a Parigi arriva fino a San Pietroburgo poi torna e le sue donne cioè la madre e la sorella si sono trasferite a Padova e lui va a Padova e a Padova riprende a dipingere e a Padova prima di tutto è schifato dall'ambiente sociale vi ho detto che lui era un piccolo selvaggio giocava a fare la Pash come si diceva a quell'epoca quindi l'indiano metropolitano arrivare a Padova una città dominata dall'università dove tutti sono dottori professori e tutto è ritmato secondo i tempi dell'università è per lui una vera sofferenza però per fortuna non lontano da Padova c'è Venezia Venezia nel 1906 1906 1907 è in un momento di grande ricerca artistica dalla fine degli anni 90 dell'800 ci sono le biennali e poi la famiglia Bevilacqua Lamasa ha fatto una diciamo una fondazione per aiutare i giovani pittori così in questo breve e un po' sofferto soggiorno padovano Boccioni incontra Gino Rossi Arturo Martini tutti quegli artisti che si muovono intorno a quella che viene chiamata la scuola di Capesaro e in particolare incontra questo critico d'arte che si chiamava Vittorio Pica e che sarà uno dei suoi punti di riferimento dal punto di vista dell'analisi dell'opera d'arte sono anni importanti quindi quelli di Padova e di Venezia perché Venezia è la porta sulla mitteleuropa quindi l'influenza espressionista che vedremo in alcune opere del giovane Boccioni non viene direttamente dall'attraversamento della Germania per andare in Russia almeno non lo pensiamo non ci sono documenti ma Venezia vedeva arrivare opere di Klimt opere della secessione di Monaco e questo chiostro veneto che vedete qui con questo aggrumarsi di colori fa pensare appunto ad alcuni pittori del gruppo di Capesaro a cui da lì a breve si aggiungerà anche un giovanissimo Felice Casorati ecco in mostra c'è una sezione molto molto interessante in cui si vedono le opere d'arte che Boccioni deve aver visto a Venezia alla Biennale alle mostre Bevilacqua alla Masa a volte anche gli autori che noi non consideriamo più per esempio Jacques-Emile Blanche pittori che ci sembrano sprofondati nell'oblio e che invece all'epoca erano importanti quasi una sorta di quaderno varburghiano in cui Boccioni mette delle piccole fotografie quando può all'epoca costavano molto oppure annota i quadri che ha visto e le proprie impressioni va detto ed è difficile farlo capire in una lezione e invece in mostra lo vedrete bene che la breve vita di Boccioni è come un filo scritto e la scrittura è scrittura pittura scultura lettera poesia aveva persino cominciato a scrivere un romanzo del breve periodo padovano è questo ritratto della pittrice Bisi Fabri che vedete qui sempre divisionista con qualche accensione un po' più aspra nel blu del cappello e con una inquadratura piuttosto irregolare e qualche vena espressionista ripeto con quell'origine da Venezia al mondo germanico si può intravedere in questa Gisella una incisione che vedete anche in mostra e che ha appunto questa vedete questa crudezza che fa pensare all'espressionismo tedesco di quegli anni ne approfitto per farvi vedere l'immagine di un artista che è stato amico di Boccioni nel periodo padovano ma che purtroppo è morto molto giovane anche lui ed è morto alcolizzato si chiamava Ugo Valeri e in questo suo acquerello vedete un po' questo clima ripeto questa voglia di lasciarsi alle spalle l'Italia dei campi delle cascine delle pecore delle mucche e andare verso una dimensione di luci di di novità di giovinezza e poi Boccioni arriva a Milano 1907 arriva a Milano prima si trasferisce in via Castelmorone al numero 7 e poi andrà ai bastioni di Porta Romana che renderà famosi con i dipinti che tra breve vi mostrerò la situazione economica non è delle migliori e quindi si dà un po' da fare si dà un po' da fare come grafico perché è un buon incisore tra l'altro e vedete che fa anche le copertine della prestigiosa rivista del touring rappresenta quelli che sono i miti del momento l'automobile e la bicicletta con tanto di tenuta da ciclista nella parte inferiore sono però rappresentati ancora come fossero oggetti esattamente come i santi come le nature morte della tradizione europea dei secoli passati sono molto interessanti le prove grafiche di Boccioni questa è una questa divertente e molto vicina a Previati che nel frattempo lui conosce e a Bistolfi che conosce sempre a Milano questo manifesto che pubblicizza l'esposizione di pittura e scultura come vedete promossa dalla famiglia artistica e dalla patriottica a Brunate viene chiamato in ballo Mercurio che è questa figura dalle grandi ali con il caduceo e poi questa vittoria che ha questo velo ancora una volta botticelliano e che tiene in mano l'Apollo del Belvedere sono gli anni d'oro dell'illustrazione quindi certamente andando a Parigi Boccioni aveva visto le cose di Bonnard di Toulouse-Lautrec e doveva cercare di avvicinarsi a questo universo fra l'altro tra le cose che più impressionano nella lettura dei suoi scritti c'è la citazione della conoscenza di Aubrey Bersley che avete visto probabilmente alla mostra di Mucca questo disegnatore vittoriano che impressiona molto Boccioni per la sua forza di tratto ma la Milano in cui arriva Boccioni è la Milano di Cesare Tallone di cui qui vi faccio vedere un ritratto è una Milano che ha ancora tante permanenze come posso dire è difficile ma voi stessi confrontando con la realtà odierna capite bene quello che voglio dire c'è ancora spazio per una tarda scapigliatura dipinge ancora Emilio Gola e ad insegnare all'accademia non c'è certo un espressionista ma appunto il bravo Cesare Tallone i cui ritratti hanno grande successo e che prosegue lo vedete bene qui la tradizione della pittura scapigliata lombarda grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti